Oggi la nuova legge Gelli, una legge che riforma l'approccio e le procedure sulla responsabilità professionale degli operatori della sanità, soprattutto il medico e l'infermiere in caso di morte oppure di lesioni gravi del paziente in una struttura sanitaria pubblica o privata. E con noi, per parlarne un manager della sanità, Ottavio Coriglioni, benvenuto dottor Coriglioni, amministratore della casa Libura Salus di Battipaglia, ed è stato anche consigliere della federazione dei manager sanitari. È un tema di grande interesse, se sono vere le stime, stime non dati, di 90 morti al giorno, cioè più di 30.000 morti all'anno in Italia per errore sanitario, il medico o l'infermiere. Argomento di grande interesse anche per le stime sulle cause in corso per errore sanitario, 300.000, pensate, sono 300.000 cause in Italia, con 4 anni in media, da 1 a 4, per aprire e chiudere una lite e con 1.400.000 Euro, che è il risarcimento massimo, erogato per decesso del paziente. E bisogna dire anche che la responsabilità dell'operatore sanitario, ripetiamo, il medico, l'infermiere, ha conosciuto varie fasi. Una intorno agli anni Ottanta, che era benevola nei confronti degli operatori sanitari, una seconda che invece cedette il passo ad una visione opposta, fino al punto che anche una colpa lieve poteva assumere rilevanza criminale. La terza, quella del ministro Balduzzi, vi ricordate, che introdusse due requisiti perché l'illecito corposo non fosse criminale, il rispetto delle linee guida della comunità scientifica e l'assenza di colpa grave. E allora qui che cosa è successo? È successo che per regolamentare meglio la mano del legislatore e la riforma Gelli. Naturalmente ci sono ancora tante cose da rivedere in questa riforma, in questa legge, adesso ne parliamo con il manager. Dottor Coriglioni, quali sono, secondo lei, le novità più importanti della legge e se ci sono anche le criticità, partendo dalla istituzione del difensore civico e del centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che è una novità? Certo, no, no, la legge Gelli Bianco, come ormai la chiamiamo comunemente, ha sicuramente introdotto diverse novità, alcune sono quelle che ha citato lei, che sotto certi aspetti forse sono un po' marginali rispetto al cuore della normativa, però diciamo che sono già delle cose abbastanza interessanti. Io personalmente sono un po' scettico sulla figura del difensore civico perché sappiamo che per la normativa civile, che ormai è un obbligo che si faccia questo passaggio, lì a pagamento, qui probabilmente, quasi sicuramente sarà gratuito il discorso, non è che abbia raggiunto chissà quali risultati nel non snellire le procedure di carattere legale, però è un primo passo, credo come diceva lei che la legge vada inquadrata, diciamo più o meno benevolmente, nel senso che è un passo che il legislatore vuole fare per tutelare il paziente da un lato, che ovviamente è una cosa giustissima, dall'altro lato a cercare un pochino anche di limitare il ricorso a pratiche legali, chiamiamole un po' esasperate qualche volta. Invece questo centro gestione di rischio sanitario e sicurezza del paziente mi pare interessante perché dovrebbe raccogliere i dati. Sarebbe interessante, se si riesce a metterlo su, a metterlo su, tutti quanti abbiamo l'esperienza del registro tumori, voglio dire che parte parte e non parte mai, diciamo se si riuscisse a farlo sarebbe interessante, sia per capire che cosa accade, se ci sono differenze nelle varie zone d'Italia e poi per vedere se ci sono problemi magari insiti nel discorso dell'ospedale, pensiamo al discorso delle infezioni per esempio o cose di questo genere che io ritengo in buona parte debellate, però avere un registro che ci riporta queste cose sarebbe certamente molto interessante. E può essere anche utile per esempio, una volta rilevate, come diceva lei, le criticità formare, aggiornare i medici e gli infermieri sulle novità, insomma questo è un fatto molto interessante. Lei sa che già con la normativa precedente nelle strutture sanitarie, sicuramente in quelle a capitale privato esiste, c'è una figura o più di una figura che viene chiamata risk management, cioè che sono proprio coloro i quali dovrebbero verificare all'interno delle aziende quali sono le criticità e cercare di purvi rimedio, prima naturalmente che le stesse si verifichino. Chiaramente occorre molta esperienza, bisogna fare molta strada, per cui sarebbe utile avere i dati di cui parlava lei prima. E poi vediamo qui l'obbligo delle aziende alla trasparenza e alle informazioni in tempo reale sul paziente. Sul paziente, certo. Questo tra l'altro è un obiettivo da raggiungere, perché in molte regioni non c'è questa velocità nel conferire i dati. Sì, questo sarebbe un altro dato interessante da conoscere anche statisticamente. Voglio dire, per quello che riguarda il dato nel senso di consegna dei dati sanitari della cartella clinica, nel caso della nostra casa di cura Salus, per esempio, che è l'elemento fondamentale, ormai tutte le strutture a capitale privato sono piuttosto veloci. Mi risulta che non altrettanto siano gli ospedali che vanno a mesi per consegnare una copia di una cartella. Però accanto al discorso della cartella clinica c'è anche il discorso di dover avere un sito sul quale pubblicare i danni che sono stati. I risarcimenti. Giustamente la trasparenza, cioè quella clinica oppure quell'ospedale, è abbastanza aggravato da errori e quindi da risarcimenti. Certamente il problema anche qui, perché purtroppo questa normativa coinvolge tante cose, c'è anche un problema relativo alla magistratura, perché se il discorso della magistratura continua a essere così lento, ed è uno dei problemi che hanno tutte le strutture, anche nei confronti dell'assicurazione, è chiaro che sembra che c'è un carico di rischio enorme, mentre magari una serie di quelle denunce, di quelle cose, sono cose che vanno poi a finire. Molto lavoro per gli avvocati e per i giudici. Molto probabilmente sì, anche se l'intento della legge dovrebbe essere quello di ridurlo un po'. Dunque, veniamo un po' ai punti cruciali, cioè la responsabilità penale e la responsabilità civile del medico o dell'infermiero. Il primo, dicevamo, è la responsabilità penale. Nella sostanza la nuova legge esclude la punibilità in presenza di alcuni requisiti. Certo, noi teniamo già conto che almeno, se non ricordo male, che le statistiche attuali, cioè di tutte le denunce penali, se no arriva a buon fine il 5%, quindi è un discorso abbastanza ridotto. Però questa legge ha voluto legare la responsabilità del medico e dell'infermiere al fatto, come accennava prima, del seguire le cosiddette linee guida. Questa è un'altra criticità della norma, però, perché chiaramente queste linee guida chi le fa? Le devono fare le società scientifiche accreditate. Quali sono le società scientifiche accreditate? Mi risulta che in questi giorni è uscito il decreto che stabilisce quali sono. Francamente io non ne sono a conoscenza, non ho trovato questo decreto, però ci deve essere questa indicazione. Colgo l'occasione per dire che la legge Gelli, che esiste, ed è legge dello Stato, avrà bisogno di tutta una serie di norme attuative perché possa poi espletare realmente tutte le funzioni di cui stiamo parlando. In effetti è una legge che in questo momento esiste, però non è applicabile perché non ci sono ancora i decreti attuativi. Una serie di decreti attuativi, esatto. Che in effetti spiegano dettagliatamente poi quelle che sono le procedure. Non solo, ma andrà visto anche come sulla magistratura, non so se ai nostri telespettatori a lei è capitato di leggere, già comincia a esserci qualche sentenza o qualche parere di magistrato che dice a me non importa se lui ha seguito, se il medico o l'infermiere ha seguito le linee guida. Mi interessa che abbia realmente applicato e realmente si sia impegnato nel lavoro, nell'assistere il paziente. Infatti, riepilogando, scompare un po' la colpa grave se ci sono i requisiti, cioè il rispetto dei protocolli. Se a Monte c'è stato questo. Le linee guida, insomma. Quindi dal punto di vista penale è un po' difficile incastrare il medico o l'infermiere. Dal punto di vista civile è diverso il discorso. È molto diverso, sì. C'è un cambio di rotta anche sul piano del civile, perché è da quello che si legge nella legge e sull'azienda che poi si scarica l'onere maggiore. Probabilmente sì. Innanzitutto con questo cambio di cui parlava lei c'è una prima cosa importante, nel senso che sono ridotti i tempi di prescrizione, che oggi in realtà sono dieci anni dal momento in cui uno si rende conto di ciò che ha avuto, mentre invece saranno dieci anni fissi e cinque anni nel caso della responsabilità che lei diceva del medico o dell'infermiere. Quindi questo mette un po' d'ordine nella materia in genere. Cioè velocizza i tempi? Dovrebbe velocizzare. Il cui praticamente risulta alla fine non conveniente allo Stato perseguire il colpevole. Diciamo che siccome parliamo di diritto civile è un cittadino contro il medico o contro l'infermiere o come lei ha insinuato contro la struttura, che così è, però i tempi di prescrizione sono più stretti. In alcuni casi è il paziente a dover dimostrare di aver avuto un problema e non più il medico o l'infermiere a doversi discolpare prima ancora che succeda che succeda. La cosa è delicata. La sostanza è che comunque il legislatore ha voluto distinguere le responsabilità dei civili, quella del medico o dell'infermiere, che non hanno un contratto, non conseguono un contratto diretto con il paziente, un rapporto extracontrattuale, mentre invece l'azienda istituisce un rapporto contrattuale e quindi è anche il soggetto più capiente, cioè quello che ha più soldi. Quindi il legislatore ha pensato adesso scarichiamo un po' tutto sull'azienda. Che però, ed è il terzo punto importante, può rivalersi sul medico o sull'infermiere. Questa che lei ha esposto brevemente, ma in maniera brillante, è la nostra grande perplessità, perché noi non è che possiamo andare in una conflittualità continua tra noi e il paziente, tra noi e il medico. Diventa un tribunale l'azienda sanitaria. Esatto, mentre questa cosa nella legge doveva, secondo me, essere vista in una maniera diversa, perché il medico dove espletava la sua attività? La espletava in una struttura, sia essa capitale pubblico, sia essa capitale privato. Non certamente nel suo ambulatorio, quello che fa nel suo ambulatorio è molto poco. Quindi questa situazione doveva essere vista, tutelata, controllata un po' meglio, fermo restando che grazie a una sentenza come l'esati una decina di anni fa, le strutture vengono comunque sempre chiamate in caso. E per carità, quando si tratta di tutelare i diritti del cittadino ci mancherebbe altro. Il problema è che quando qualche volta di questo discorso si approfitta. In ogni caso, l'azienda, secondo l'articolo 6, può, in caso di dolo, di golpa grave o di dolo, può rivalersi sull'operatore sanitario successivamente al risarcimento. Entro un anno dall'avvenuto pagamento, cioè in sostanza la legge consente all'azienda sanitaria, se si distrano le prove, di rivalersi sull'operatore sanitario. Però anche qui c'è una criticità che andrebbe corretta, probabilmente lo sarà, forse, da un prossimo Parlamento, un prossimo governo, probabilmente l'anno prossimo. E infine l'ultimo punto cruciale di questo tema di grande, molto delicato, di grande interesse, perché riguarda appunto 300 mila cause in Italia, fra famiglie di pazienti che magari sono deceduti e aziende sanitarie o medici. Tutti i giorni noi leggiamo di pazienti, anche piccoli, che muoiono oppure subiscono delle gravi lesioni. L'opinione pubblica ovviamente in quel caso demonizza e criminalizza sempre il medico e l'infermio, però certe volte ho pure l'azienda. Però in molti casi c'è da verificare, da approfondire se sono state rispettate tutte le linee guida, i protocolli, se si è trattato di un incidente, oppure se si è trattato di una fatalità, perché in molti casi magari la morte avviene per altri motivi, perché il paziente magari ha… C'erano delle complicanze, c'erano delle complicanze, oppure il paziente aveva malattie che non erano state rilevate, insomma bisogna andarci piano, prima di criminalizzare con grande facilità il medico o l'infermiere. Infine, gli obblighi assicurativi, questo purtroppo è uno dei punti dolenti per l'azienda. Infatti, è un punto dolente in che senso? Comunque voi comunque stipulate… Esatto, la normativa lo istituisce come obbligo, come lei diceva, però voglio dire tutte le strutture sanitarie hanno da sempre avuto una copertura assicurativa per danni, copertura assicurativa che per la verità in questi ultimi anni non solo è diventata esosa, ma c'è anche il problema che la maggior parte, per non dire tutte, le compagnie assicurative italiane non vogliono più occuparsi di questo ramo, il che ci comporta di rivolgerci a compagnie assicurative straniere, quasi tutte sono di diritto anglosassone, il che comporterà, giusto per dire un'amenità, che tanto amenità non lo è, anche il fatto che se l'Inghilterra esce come esce dall'Europa, noi avremo dei contratti con un paese extracomunitario e non più comunitario, col fatto che quando ci sarà un eventuale danno, noi dobbiamo trasmettere dati sensibili in un paese extracomunitario, ci sono tante criticità, voglio dire che la legge prevede anche la possibilità di autoassicurarsi, però non è una cosa semplice perché bisognerebbe per autoassicurarsi avere le stesse competenze che ha un'assicurazione, quindi fare la valutazione del rischio, fare la valutazione del danno medio, fare una serie di cose. Su questo argomento avete fatto un meeting recentissimamente, perché voi come Salus avete una grande sensibilità su questi temi legati alla salute del paziente, alla tutela, però è in cantiere anche un altro meeting, credo che voi approfondirete ancora questo argomento. L'idea è proprio quella che dice lei, perché? Perché questo meeting che è stato organizzato la settimana scorsa ha avuto come focus il medico. Quello che vorremmo fare, immagino a febbraio quando speriamo che ci siano tutti i decreti attuativi della legge Gelli Bianco, è invece di vedere l'azienda sanitaria nel suo complesso, il compreso il medico, perché per me sono entità che non possono essere tra loro scisse, devono essere integrate, quindi è importante che ci sia un movimento di studio su questi argomenti interessanti, d'altra parte perché parliamo comunque della tutela della salute delle persone. Bene, noi comunque ci aggiorneremo su questo argomento di grande interesse, grande attualità e ringraziamo molto il dottor Coriglioni per la sua disponibilità, per la presenza e anche per averci aiutato a capire meglio questa legge che ha alcuni punti ancora oscuri.